Perchè ho parlato coreano? Perché il mio compito a Seoul non è solo quello di promuovere la lingua e la cultura italiana, ma è anche quello di conoscere e capire di più la vostra meravigliosa cultura coreana. Vi aspetto tutti all'Istituto Italiano di Cultura dove potremo cominciare ad arricchire le nostre rispettive culture coreana e italiana. Ciao a tutti!